benvenuti nel mio regno questa è la regia dello streaming quest'anno il festival di Umbria Jazz ha deciso di portare nelle case anche la possibilità di avere un pezzo di festival in casa è stata una bellissima occasione quale miglior modo per convertire anche in positivo momento difficile e per poter anche sperimentare delle cose nuove sono stato contattato dal Marco Melchior che è il responsabile tecnico di tutta questa manifestazione per cercare di costruire quello che possiamo definire un ecosistema sappiamo benissimo che ormai lo streaming è una cosa che si dà già quasi per scontato ma le difficoltà tecniche che dobbiamo affrontare sono le stesse identiche di una grande produzione televisione avevamo bisogno di sperimentare un sistema che fosse estremamente versatile sia a livello musicale che tecnico ma soprattutto che ingombrasse poco che fosse in grado di essere trasportato di poter gestire delle dirette anche durante vari palchi durante la stessa giornata universal audio oltre ad essere tra i plug in più musicali in continua evoluzione sono hanno anche questo grande vantaggio di permetterci di alleggerire le macchine quindi di usarli come dsp esterna non essendo la latenza un problema in questo contesto possiamo veramente sbizzarrirci nella scelta dei plug in la stabilità è estremamente alta e soprattutto ci permette di poter completamente riconfigurare la macchina tra un cambio palco e un altro e dare una sonorità quindi al mixaggio alla console al pro tools in questo caso completamente differente grazie a tutti